Oggi per la nostra protesta contro il silenzio dell'amministrazione comunale capitolina, contro l'aggiunta Alemanno, per quanto riguarda la nostra richiesta del trasferimento periodico intermunicipale ogni tre anni dei vicini urbani e dei pendenti di uffici tecnici comunali per garantire trasparenza e imparzialità, abbiamo scelto la sede della RAI di Via Teurada, Via Teurada al numero 66, la sede storica della RAI dopo quella di Via Le Mazzini, chiaramente abbiamo già incenato la nostra protesta diversi mesi or solo insieme al responsabile regionale dell'Italia dei diritti Vittorio Marinelli e l'Italia dei diritti continua, continuerà ancora ad oltranza queste manifestazioni di protesta anche per dare voce ai 30.000 cittadini che hanno firmato la nostra petizione per sostenerci in questa battaglia contro la corruzione e la concursione dei vicini urbani e dei pendenti di uffici tecnici al Comune di Roma per garantire chiaramente trasparenza e imparzialità nell'esplodamento delle funzioni di istituto di questi comparti lavorativi, dei pendenti di questi comparti lavorativi per evitare appunto connivenza e collusioni sul territorio, non siamo noi a dirlo purtroppo, è la magistratura che ci dice questo, è la magistratura che ci dice questo con le varie inchieste, ovviamente le varie inchieste, qui c'è un po' di tranquillo, praticamente noi chiediamo alla Giunta Alemanno di avviare un tavolo di concertazione, abbiamo già avuto l'ok dal comandante dei vicini urbani, Angelo Giuliani, da parte di Diego Porta, a suo nome, Diego Porta il vice comandante generale, ci ha detto che praticamente è condivisibile un provvedimento di questo tipo e questo per garantire anche direttamente proprio il prestigio e l'immagine del corpo di polizia municipale e del tutto l'apparato comunale capitolino appunto, proprio per garantire appunto la maggioranza di questi dipendenti, di questi comparti lavorativi che svolgono il proprio dovere con abnegazione, senso del dovere, con attaccamento al servizio contro le mele marce, queste mele marce come ho detto in altre occasioni, escrementi delle istituzioni, purtroppo quelle che si macchiano di corruzione, di reati, reati peculato, falso, abuso, falso ideologico, abuso d'ufficio, corruzione, concussione, sono cose che non dovrebbero esistere purtroppo, ci sono queste poche mele marce che vanno a inficiare tutto il lavoro della maggioranza dei dipendenti, non va bene, questo va a discapito della pubblica amministrazione, va a discapito dei cittadini e va a discapito sicuramente del corpo stesso, dei dipendenti stessi, di quelli che folgono il proprio dovere, Alemano non può risponderci ancora no, ancora se ci tiene veramente alla legalità e alla trasparenza nel espletamento delle funzioni degli impiegati comunali, quando riguarda il suo mandato come sindaco, perciò se tiene veramente a questo tipo di principio, legalità, trasparenza, imparzialità, non può assolutamente prescindere da questa nostra richiesta, abbiamo un tavolo di concertazione per garantire e prendere in considerazione questa nostra proposta, il trasferimento periodico intermunicipale dei vigili urbani e dei dipendenti degli uffici tecnici comunali ogni tre anni, ogni tre anni devono ruotare per evitare condivenze e collusioni sul territorio, ripeto garantiamo anche l'immagine di questi comparti lavorativi e della maggioranza dei dipendenti che appunto ne fanno parte, che svolgono il loro lavoro con dignità, professionalità, abnegazione, senso del dovere, senso e attaccamento al servizio contro le mele marce che vanno soltanto a costare tutto l'apparato istituzionale e amministrativo.